lo sport in collaborazione con dai più valore alla tua casa fiali pegaso i veri mobili artigianali veniti in legno massiccio una grande esposizione per arredare con mobili di qualità prezzi imbattibili e in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita pegaso sulla strada statale 35 bis dei giovi nuovi alessandria visita il sito pegasomobili.it certo sarebbe davvero un bel colpo se andrea agnelli riuscirà a prendersi la presidenza dell'european club association perché in questo modo il calcio italiano piazzerebbe uno dei suoi massimi dirigenti nelle alte sfere internazionali il passo sembra davvero ormai fatto in quanto il numero uno della juventus appare il grande favorito per sostituire dopo quasi dieci anni carlainse rumenig dirigente del bayern monaco dove è tornato anni fa dopo la sua brillantissima carriera calcistica la nomina avverrà domani a ginevra nel corso dell'assemblea dei club europei tra i sostenitori di agnelli lo stesso rumenig ma secondo i rumors l'intera società bianconera con l'amministratore delegato beppe marotta in testa in questi giorni sarebbe in svizzera proprio per sostenere la corsa del proprio presidente molti gli incontri sostenuti con le società calcistica italiane in primis con claudio lotito presidente della lazio con il quale si è dovuto abbassare le armi non solo per l'ambita presidenza dell'eca ma anche per sbloccare la difficile partita in lega serie a e nel consiglio della figici dove tiene banco la formula suggerita dal commissario tavecchio che sta tentando di snellire lo statuto che regola le varie leghe calcistiche nata nel 2008 l'european club association rappresenta promuove protegge i club a livello europeo ne fanno parte 220 società che provengono da tutte le 53 federazioni dell'uefa domani a ginevra in occasione delle votazioni tutte le otto società italiane nove con la juventus voteranno per andrea agnelli e se tutto andrà come da previsioni per lui si aprirà l'occasione per un nuovo ruolo di grandissimo prestigio pegaso sulla strada statale 35 bis dei giovi nuovi alessandria visita il sito pegasomobili.it il meteo in collaborazione con immaginate di essere al caldo nella vostra casa immaginate un modo più intelligente per riscaldarla immaginate un modo più economico per riscaldarla vuoi saperne di più attendi qualche secondo ecco il modo più intelligente ed economico per riscaldare la tua casa i vantaggi che ti offriamo con la caldaia pellet rtb sono la pulizia della cenere ogni sei mesi assistenza entro le 24 ore e garanzia per dieci anni eseguiamo installazione e gestiamo l'incentivo del conto termico vuoi maggiori informazioni punto fuoco a tortona sulla circonvallazione il parco acquatico lavagello di castelletto d'orba vi aspetta dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 19 e la domenica dalle 9 alle 19 per informazioni 0143 83 0691 www.lavagello.it info chiocciolallavagello.it